Carissimi amici, sono PanieloTube e ci siamo tornati qua su Dead Incoming Un gioco che ho portato qualche giorno fa, vi è piaciuto davvero tanto, sono molto contento Non mi aspettavo in realtà che vi piacesse così tanto Ed eccoci qua con un nuovo episodio Prima di cominciare mi raccomando lasciate qui sotto tantissimi like, condividete il video Iscrivetevi al canale con la campanella attiva Se volete essere salutati qui sotto nei commenti, basta che me lo chiedete E io vi saluto direttamente qui sotto nel commento Oppure se volete farmi qualche domanda io cercherò di rispondere alla maggior parte di tutti i commenti Ma adesso direi di partire, direi di cominciare subito E partiamo con questa nuova puntata, con un nuovo gameplay Ok, siamo arrivati al livello 39, quindi andiamo avanti Vediamo qual è lo scenario che ci tocca qua Ok, ci sono i piratini che combattono C'è l'amichetto scheletrico che combatte con l'amichetto pirata Cosa dobbiamo fare qua? Ok, metto qua il cannone, vediamo se fa qualcosa Niente, qui c'è uno shotgun Se lo do uno di loro Ah, bene, bene, bene Ah no, non è successo nulla Non è successo nulla, sì, perché dopo tutto E l'amichetto scheletrico, lui è già uno scheletro Quindi non è che può fare più di tanto Ma quindi allora cosa posso fare? Vi prendo la spada No, non lo posso fare Vi faccio... Metto qua il cannone di sotto Lo metto di sotto così spara sotto in acqua No Lo metto qui in alto Così cade in testa quel lumino No Lo shotgun lo posso mettere Dove lo posso mettere? Un altro oggetto che io posso prendere No, eh Aspettate, aspettate No Qui c'è parte dell'albero maestro Della nave che è mezzo rotto Ma cosa posso fare qua? Lo metto qui sopra No, non lo posso mettere qui sopra Lo metto qua Questo... Ah Eccolo qua Ma scusate, ma io sto cannone Ce l'ho fatto passare chissà quante mila volte Lì davanti E non è successo nulla Però ci siamo presi L'anima Ce la portiamo via Ok, adesso qui c'è l'amichetto meccanico Che deve riparare la macchina E quindi cosa possiamo fare qua? Non lo so Qui c'è un pulsante Se premio il pulsante Io metto qua il telecomando Che succede? Ah Nulla di che? Nulla di nulla Gli metto qua invece la chiave inglese Vediamo se fa qualcosa No, niente Non è successo nulla Effettivamente posso spostare la macchina Posso prendere lui Posso mettere la chiave inglese qui sulla testa No Non posso fare nulla Ah Ho rotto il telecomando Cosa? No Ma è bellissima sta cosa qua Spettacolare Spettacolare E anche quest'anima è stata presa E ora ce la portiamo via E guardate qua L'amichetto come si beve la coca cola di soddisfazione Te la meriti proprio Va bene Facciamo l'oso Non posso riscattare il premio Perché mi tocca guardare un video Altrimenti Però abbiamo guadagnato altri punticini Andiamo avanti Tra l'altro con queste monete che Posso sbloccare una nuova skin? Non lo so Vediamo Vediamo qua Quale skin? Sì Guardate Posso prendere la skin del clown Ecco qua E vai Come sto clown È cambiato totalmente Va bene Va bene Allora direi di toccare play Facciamo il livello 41 Va bene Qui ci sono gli amichetti maghi Che fanno gli esperimenti con la magia E quindi cosa posso fare? Qua gli scambio il libro Gli metto qua Gli metto qua il libro No No Aspettate Prendo la pecora Gli tolgo quel libro Vediamo se senza libro Fa le magie Vediamo se riesce a farlo Eh no Riesce a farle Riesce a farle Come? Ok Gli ho cambiato quel libro E quindi ora È diventato un dinosauro È diventato un dinosauro E guardate che bello Fantastico E ci prendiamo Questa nuova anima Dobbiamo arrivare ad altre tre anime Vediamo se con questa nuova skin Ci porta fortuna Ok Adesso c'è qui l'amichetto Che gioca con il serpente Che facciamo qua Ok il flauto Suona per bene No Va bene Non succede nulla Prendi allora qua la rana Scusa Ma se No 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 Prendi la rana Non posso raccogliere la rana Non me la fa prendere Allora prendo qua il flauto E lo do alla rana No Cosa posso raccogliere qua? Non posso raccogliere nulla Boh Qui c'è qualcosa Lancio il flauto Ma perché me lo prende sto flauto? Ce l'ho qua in mano No Lo porto qui sopra Cioè Lo do al serpente Serpente suona il flauto E se lo prende lui? Se lo voglio dare al serpente Perché te lo prendi te sto flauto? Che lo voglio dare a lui? Perché? E tanto non se lo prende neanche Sta rana non fa niente Non fa nulla Rana Dammi te un aiuto Cosa devo fare qua? Ah Cosa? No Non ci posso credere Ma cos'è? No No Che succede ora? Cosa sta succedendo? Ma non ci posso credere Ma guardate Proprio le cose più strane Bisogna far accadere in questo gioco E come save the girl Che devo far avvenire Gli avvenimenti più strani Più improbabili Per poter vincere Adesso c'è qua lo sceriffo Che deve fare centro nel bersaglio Ma ce la farà fare centro ancora per molto tempo? Secondo me sì Perché qua non ho proprio idea Di che cosa bisogna fare Ok gli avvicino qua il bersaglio No Io lo metto qui sopra sul cactus Gli metto qua L'aquila Vediamo cosa fa l'aquila No Niente Non ha concluso nulla l'aquila Nulla di nulla La metto allora qua sul bersaglio Qua No no niente No non volevo metterlo su di lui Gli devo togliere il cappello Che devo fare qua? Allora il cappello non me lo fa togliere Gli devo togliere qua qualcosa Gli stivali da sceriffo Il bersaglio Gli lo metto Ah glielo ho messo lì sopra No vabbè Cioè io avevo pensato tutto Tranne che questo Che fargli cadere il cactus addosso Proprio non ce l'avevo minimamente pensato Eppure intanto questo dovevo fare Ma dai E vabbè Prendiamoci qua le monetine E andiamo avanti Vediamo ora cosa possiamo fare Ok su Veloce veloce Prossimo livello Vediamo qua Uh livello bonus Livello premio Tocchiamo start Ah no devo guardarmi il video E devo schippare allora Devo schippare Ma perché? Perché quando sblocco le cose Poi non le posso usare Devo usare un ulteriore sblocco Per poter andare avanti Ok C'è l'amichetto con il cagnolino Sulla slitta Che devo fare qua? Lancia l'ossigeno Così il cagnolino va avanti No non succede nulla Vediamo qua Qui sicuramente c'è una cosa strana da fare Qualcosa che io non so Metto qua l'osso qui sopra Eh no Non volevo lanciarla a lui Non volevo darla a lui Ok prendo la canna da pesca Non è una canna da pesca Tra l'altro Gliela metto in testa Te la metto qua Qui sopra Qui davanti Vabbè analizziamo bene lo scenario C'è qui un amichetto In questo modo No Ah ah eh Te lo meriti a sto giro Te lo meriti Hai voluto fare questo al cagnolino E ora io mi prendo la tua anima Eh così si impara Così si impara Andiamo avanti Ok C'è qui l'amichetto Ma questo qua veramente è messo male Ma almeno mettesse bene le spine della corrente Ma guardate com'è la mess Guardate qua Allora ci faccio cadere dell'acqua No Non posso farci cadere l'acqua Vabbè Gli do da mangiare Sì mangiare No questo sta facendo altro che mangiare Oh Guardate Guardate Sì E vai Ce l'abbiamo fatta anche a sto giro E ci prendiamo quest'altra anima Da collezionare Ce la portiamo via Ok 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 adesso c'è qui l'amichetto sul motoscafo Ok prendiamo qua Qui c'è del cibo Fa qualcosa il cibo I gabbiani Guardate i gabbiani Guardate qua che bello Che bello No Bellissima sta parte Spettacolare Al massimo al 100% Benissimo Altri livelli completati E altre anime Prese e portate Al campeggio Come al campeggio Perché al campeggio E volevo dire portate via Ma perché mi è venuta in mente la parola campeggio Furispin abbiamo sbloccato Perfetto Spinniamo gratuitamente Ok ok Vediamo qua La ruota della fortuna Cosa mi dirà No 500 Solo 500 Ma subito di lato C'era 1000 monete E no E prendiamoci queste 500 monete E reclamiamole Prendiamocene E portiamocene a casa Visto che altro Non posso fare E ruota della fortuna Gratis Ulteriore bonus Non la posso usare Altrimenti mi tocca guardare un video Va bene Andiamo avanti Livello 47 Cosa c'è qua Oh Limited loading Caricamento limite Che devo fare qua Ci metto la coca cola sopra In questo modo Vediamo cosa succede Prende il pacco con la coca cola No Cosa fa Ah è pesante Cosa succede No Ah è vero Limite di carico E vai Completato Alla grande Superato anche questo livello E ce lo portiamo A casa Come bonus Della vittoria Andiamo avanti qua Con il prossimo livello Cosa c'è qua No 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 Qui ci sono i due amichetti Giù a terra E quest'altro Non per nulla amichetto Che spara così all'aria Cosa vuoi fare tu Cosa vuoi fare Vuoi prenderti la valigia Vuoi prendertela via Ah gliela lancia qua addosso Non è successo nulla Non è successo nulla Allora l'amichetta No l'amichetta non fa niente Posso togliere qua Sulla testa La maschera Non la posso fare Sposta la valigia qua sopra La metto di qua Cosa posso fare qua Che posso spostare oggetti La metto qua sul palo Niente Non la posso mettere di qua Qui in aria Dove spara lui Qui In questo modo No Niente Non fa niente Non me lo fa fare Non me lo fa fare Posso prendere il suo cappello Scusa amichetto Non è che mi daresti una mano Tu che sei qua No mi sa che qua Non mi danno nessuna mano Niente di niente E che c'è qua da fare Sposto la panchina Non posso farlo Non ci posso credere Ma cos'è sta roba Ma cos'è Ma dai Tre anime Contemporaneamente Tre in un colpo Solo Vediamo se ve la contate Tre Mi raccontate Soltanto due No No Ma non importa Perché l'importante È aver completato Il livello E vai Si va avanti qua Nel frattempo Quello si beve la coca cola Ma fa bene Fa bene Vediamo qua Ah questa sarebbe la prossima skin Da sbloccare Ma tanto non la posso prendere Perché mi tocca guardare un video Ma perché Quelle skin da guardare i video Ma perché Va bene Andiamo avanti qua Direi di fare ancora qualche livello Oh mamma mia Oh mamma mia Killed by crocodile Eliminato da un coccodrillo E dove sta sto coccodrillo E salta qui sopra Vediamo cosa succede Niente di niente Allora prova a metterti le cuffie Perfetto Adesso lo spostiamo qui so No no Allora Vai qui sopra con le cuffie Qua In questo modo Proviamo a vedere Sì Guardate E adesso lo facciamo saltare qui sopra Vai michetto Salta pure qui sopra Salta pure No non ci salta più Non ci salta più Eccolo là No non vede più il tronco Non vede più il tronco Ah no no C'è senso Pensavo fosse il tronco invece E invece è stato mangiato Dal coccodrillo E vabbè ma pure lui Ma pure lui Cioè E allora Ci sono volte che sono io Che creo lo scenario Ma poi ci sono momenti come questo Che invece è stato lui Che è andato addosso Sul coccodrillo Quando giustamente Si è vista la persona Arrivarci addosso E che fa Non si difende Cos'è sta roba ora Ah di sopra Stanno facendo rumore So prendi questa amichetta So fate silenzio Fate silenzio Ok Hanno smesso di fare rumore E tanto riprendono Come prima No No Ma non è colpa mia adesso Non è colpa mia Sono i vicini di sopra Guardate sti vicini di sopra Che fanno tutto sto baccano Ok ora No no Questo qua poverino Cosa dobbiamo fare Ok mettiamoci la farina qua Vediamo cosa combina ora Fai la pizza Fai la Farne ancora una più grande Ancora 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 Falla ancora più grande Sempre di più Mi sa che non la fa sempre più grande Sempre uguale Va bene Usa il mattarello E ora cosa succede Proviamo a vedere No niente di niente Niente di niente Mettevo la farina qui allora Qui sopra No non me lo fa fare Qui invece Frigorifero C'è qualcosa in frigorifero Dentro sti cassetti Nulla Niente di niente Mettevo il mattarello nella farina Non si può fare Ok Provo a schiacciare qua io la pizza Cosa in modo che possa ingrandirsi Tolgo il cappello del cuoco Non la posso fare E no però E no però Quando fanno ste cose So Allora la farina Avevo capito che No niente niente Ok metti qua il mattarello Veloce qua In questo modo Proviamo a vedere se C'è una combo perfetta No non lo fa Non lo fa Io pensavo che più andasse avanti Più diventava sempre più grande la pizza Fino a finirgli poi addosso E invece no E invece no Gli tolgo qua il sotto La parte inferiore Oh non ho proprio la più pallida idea Di che cosa bisogna fare in sto livello Non ne ho proprio idea Lo metto qua nel rubinetto Metto qui sopra Metto di qua Metto qua ancora Glielo metto qua in testa Forza forza Facciamo qualcosa Fai qualcosa qua Non succede nulla in sto livello Cos'è? Muovi oggetti simulator Fino all'infinito Che altro non posso fare Non posso fare niente Ah L'ho capito No ma veramente Sto gioco Proprio le cose più strane Ci sono da fare Le cose più improponibili Va bene Ci siamo presi quest'anima E ce la portiamo via A casa nostra Spettacolare Vediamo il prossimo livello Com'è Su su Veloce Veloce Andiamo avanti qua Start No non posso fare questo livello Perché mi tocca guardare un video E ora Voglio vedere così per curiosità Soltanto il prossimo livello Vediamo cos'è Ah Eliminato da una pietra No veramente Sono curioso Questo qua lo voglio fare No No Aspettate Uccellino Fai qualcosa Fai qualcosa Uccellino Metto la pietra qua davanti E tolgo quest'altra Ok Vediamo cosa succede No No Avete visto No Va bene Dai Io direi allora Con quest'ultimo livello Di concludere qua Questo video Vediamo così per curiosità Il livello successivo Fatemi sapere cosa ne pensate E spero che questo video Vi sia piaciuto Se vi è piaciuto mi raccomando Spolliciate Che dividete Iscrivetevi al canale Con la campanella attiva Noi ci vediamo in un prossimo video E come sempre vi auguro Una buona giornata Buona serata E una buona notte Ciao a tutti Noi ci vediamo in un prossimo video Noi ci vediamo in un prossimo video Ciao a tutti